Già, adesso, come si chiama, la ribuscia, vado, no? Dove stai? Su Youtube stai? Quanti anni avete? 28. 28. Fate Napoli? Ovviamente. Voi dovete fare un Forza Napoli, però. Si, si, si. Sì, no, sì. Ma qui voglio? iendo? Voi dovete? Sì, si. In un giro, per la che scuola allora. In un giro? Mi è come? In è come? Grazie.